ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come riprodurre questo meraviglioso motivo che abbiamo realizzato per la realizzazione del nostro malioncino baby abbiamo deciso di fare un video tutorial da parte per riuscire appunto dedicarci con il calma giusta per andare lavorare tutto il blocco intero di questo motivo e per riuscire appunto capire meglio tutti i passaggi infatti in questo video andremo lavorare su un campioncino questo è un motivo che si adatta e si sposa benissimo con i vari progetti sta bene anche con un progetto ad esempio se dovete andare a fare un malioncino da uomo in quanto è un motivo molto fine senza eccessivi elaborazioni nonostante la sua semplicità nella esecuzione come potete vedere è un motivo davvero molto bello e di un bellissimo effetto con questa specie di rilievo che si crea ma senza eccessive diciamo elaborazioni quindi è molto molto fina ma piace veramente tantissimo quindi se il motivo mi piace possiamo iniziare partiamo quindi e andiamo avviare le nostre 20 maglie il nostro motivo è un multiplo di 3 quindi avremo ripetizione del motivo per 6 e più 2 maglie in più che sono le maglie di vivagno per l'avvio noi andiamo avviare le mali utilizzando il metodo dell'avvio alla nordica se qualcuno volesse vedere il video dettagliato il tutorial dettagliato alleghiamo il link qui sopra oppure nel info box che porta direttamente al tutorial ed ecco qui abbiamo avviato le nostre 20 mali ora dobbiamo andare a mettere una piccola base perciò andiamo lavorare due ferri entrambi lavorati a diritto quindi una piccola base a legaccio la mali di vivagno la spostiamo e dopo lavoriamo tutte le mali a diritto ed ecco qui abbiamo messo la nostra piccola base ora andiamo a vedere proprio come creare il effetto di nostro motivo la nostra maglia di vivagno noi la spostiamo senza lavorare ora dobbiamo andare contare tre maglie 1 2 3 e andare entrare con il nostro ferro in questo spazio che c'è tra la terza e la quarta maglia vedete non siamo dentro l'asolo della maglia siamo in mezzo andiamo agganciamo il filo e andiamo a creare una maglia lunga lavorata a diritto partendo appunto dal spazio dalle tre mali che abbiamo contato la prima maglia la andiamo lavorare a diritto normale successivo e due mali invece le andiamo lavorare insieme facendo una piccola diminuzione facendo questa lavorazione abbiamo fatto in una mossa diciamo così sia aumento che la diminuzione quindi il numero delle mali non varia però abbiamo creato una maglia lunga che ci ha permesso avere l'effetto la stessa cosa facciamo con la seconda coppia andiamo contare tre maglie entriamo in mezzo vedete qui in mezzo tra la terza e quarta male agganciamo il filo e andiamo a creare una maglia lunga la maglia lunga la lasciamo sul nostro ferro di destra subito dopo la prima maglia che abbiamo lasciato un attimo la andiamo lavorare a diritto normale successive due mali invece le andiamo unire insieme e ne ricaviamo un'unica maglia in tal modo noi abbiamo sempre tre maglie però una di quali e maglia lunga una lavorata normalmente una piccola diminuzione la stessa cosa andiamo contiamo tre maglie entriamo in mezzo tra la terza e quarta agganciamo il filo creiamo una maglia lunga subito dopo la prima maglia della coppia di tre la lavoriamo a diritto normale e le successive la seconda e terza maglia della coppia da tre andiamo lavorare insieme e riduciamo una piccola diminuzione e così procediamo per tutto il ferro contiamo tre ricaviamo una maglia lunga la prima male delle tre lavoriamo a diritto normale successivo e due li uniamo insieme ricaviamo una piccola diminuzione in tal modo rimane sempre il numero originale numero di partenza di lavorazione facciamo anche ultime tre la stessa cosa contiamo tre maglie la prima lo lavoriamo a diritto dopo subito facciamo una piccola diminuzione ultima maglia di vivaglio invece la andiamo a lavorare a rovescio ed ecco qui subito dopo il primo ferro del nostro motivo abbiamo già questo bel decoro ora il ferro di ritorno dobbiamo andare lavorare tutto a rovescio la male di vivaglio la spostiamo e procediamo con la lavorazione a rovescio ed ecco qui abbiamo fatto il nostro secondo ferro ora il terzo ferro lo andiamo a lavorare tutto a diritto mettendo praticamente questa nostra base a rasato ecco qui ora facciamo anche il nostro ferro numero 4 e lo andiamo a lavorare tutto a rovescio portando appunto avanti il nostro rasato dalla parte diritta del nostro motivo ed ecco qui abbiamo fatto anche il ferro numero 4 e ora abbiamo la base per andare a fare il ferro numero 5 dove andremo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto sul ferro numero 1 ma con una piccola modifica andiamo appunto vedere quindi la maglia di vivaglio noi la spostiamo subito dopo noi dobbiamo andare a fare la prima maglia di simmetria quindi la andiamo a lavorare a diritto per conto suo dopo averla fatto andiamo a fare la stessa cosa del ferro numero 1 andiamo a contare 3 maglie entriamo tra la terza e quarta maglia realizziamo una maglia lunga andiamo a lavorare la prima maglia della nostra copia da 3 e le successive due le andiamo a diminuire creando una maglia così noi abbiamo le nostre 3 maglie di cui abbiamo una maglia lunga una lavorato per conto suo e una diminuzione la stessa cosa andiamo a contare 3 maglie realizziamo una maglia lunga la prima maglia delle tre la lavoriamo a diritto normale la seconda e terza maglia le andiamo a lavorare insieme e facciamo una piccola diminuzione stessa cosa guardate contiamo 3 maglie ricaviamo la nostra maglia lunga andiamo a lavorare la prima maglia della copia delle 3 a diritto successive due le lavoriamo insieme e ne ricaviamo un'unica maglia quindi facciamo in questo quinto ferro la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel ferro numero 1 del nostro motivo la realizzazione della maglia lunga che ci permette di aumentare il numero delle maglie subito dopo per non variare il numero delle maglie andiamo a fare una piccola diminuzione così manteniamo e portiamo avanti sempre il numero originale delle maglie alla fine ci ritroviamo che abbiamo due maglie quindi non c'è più la coppia da 3 noi le andiamo a lavorare normalmente singolarmente tutte e due lavorate a diritto separatamente e la maglia di vivagno noi andiamo a lavorare a rovescio ed ecco qui come vedete si sta già prendendo bene la forma e si vede bene il nostro motivo ora nostro ferro di ritorno noi dobbiamo andare il sesto andare a lavorare tutto a rovescio come il ferro numero 2 ed ecco qui dopo aver fatto anche il nostro ultimo ferro possiamo dire che abbiamo completamente visto come realizzare il nostro bellissimo e facilissimo motivo se state lavorando ai ferri circolari ricordate la piccola differenza che per andare a creare la parte rasata prima di andare a fare avvolgimenti dovete andare a lavorare le maglie a diritto non c'è più la differenza tra il ferro di andata e ritorno in cui fate il diritto e rovescio ad esempio come abbiamo fatto nel nostro maglioncino bianco abbiamo portato avanti il nostro appunto rasato e dopo abbiamo fatto il nostro avvolgimenti ma abbiamo lavorato tutto con la lavorazione a diritto del resto la lavorazione dei ferri a doppia punta e lavorazione con i ferri circolari è identica speriamo che siamo riusciti a spiegarvi bene tutti i passaggi ovviamente se ci sono le domande ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti ovviamente se volete andare a vedere come realizzare il progetto dove abbiamo appunto applicato il motivo che abbiamo visto in questo video troverete il link allegato nel info box qui sotto nella descrizione del video oppure sopra nei video consigliati dove appunto abbiamo realizzato questo meraviglioso maglioncino top down se non siete ancora iscritti al nostro canale ovviamente iscrivetevi per non perdere tantissimi altre novità in arrivo in più se volete potete venire trovarci anche su facebook dove abbiamo aperto sia un gruppo che la pagina dove a noi farebbe veramente tantissimo piacere vedere la condivisione dei vostri lavori grazie a tutti e al nuovo video tutorial